Ci abbiamo provato, è dovuto al portiere loro penso, visto le tante occasioni create, abbastanza limpide, il portiere ha fatto la differenza. Vedendo le statistiche della partita, Bianchini non ha fatto una parata, invece Scott è stato l'uomo decisivo. Noi siamo stati bravi a fare subito gol, poi abbiamo avuto un momento dove loro, non dico che ci hanno messo in difficoltà, però spesso mettevano questi cross in mezzo, pericolosi, con qualche tiro da fuori aria, perché non ho visto azioni così clamorose da gol da parte degli avversari. Però sì, l'avevamo letta bene perché avevamo messo molte palle in mezzo, però non siamo stati capaci a sfruttarle. Non c'è stata, oddio, in quell'occasione non c'è stata l'occasione limpida, poi sono venuto con altre occasioni, soprattutto dall'esterno, appuntare dall'esterno, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo avuto tante occasioni, ma niente, potevamo star lì oggi tre giorni, ma secondo me non entrava. E quindi noi, cioè la squadra ha dimostrato di volere la vittoria a tutti i costi, in qualsiasi modo. È una vittoria che ci mancava dalla prima di campionato, quindi io credo che questi tre punti valgono oro, al di là della vittoria, ma per la classifica, per il morale, perché abbiamo sempre detto che, a parte qualche partito dove abbiamo flopato, che le partite che abbiamo giocato la prestazione c'era stata, però poi il risultato no. È solo che in fase offensiva, sai, deve essere un pochino più lucido nelle conclusioni, oltre alla bravura del portiere. Ci siamo stati anche abbastanza bravi nel crearci le occasioni, però non altrettanto bravi a finalizzarle, a buttarla dentro. Oggi credo che tutto sommato c'è stata anche la prestazione, abbiamo difeso molto bene quando dovevamo difendere, e poi io credo che comunque ho contato almeno quattro palle dove noi potevamo chiudere la partita. Dall'altra parte c'è anche un avversario, quindi è una squadra che va in vantaggio, è preoccupata perché non vince da tempo. La situazione era quella che era, ha sbagliato il 2-0 in più occasioni, è normale che poi fino alla fine puoi soffrire. Quello secondo me ha fatto la differenza, perché poi nel secondo tempo ci siamo giustamente sbilanciati, abbiamo preso qualche contropiede, ma non sono stati mai pericolosi. E' difficile anche commentarla perché, viste le occasioni create, è veramente un peccato non portare a casa almeno un punto, una partita del genere. Questa è una partita combattuta tra due squadre che nessuno delle due voleva perdere, quindi abbiamo vinto noi perché forse abbiamo creduto di più, abbiamo fatto il gol, che è quella cosa più importante del calcio.